Sono Simona Bielli, sono responsabile dei progetti per Nesta Italia, una fondazione dedicata all'innovazione sociale con sé a Torino. Sono qui ad After Festival perché oggi ho parlato di un tema molto importante che è quello dei dati digitali come beni comuni. Abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare le esperienze di Barcellona e della Francia, di come effettivamente hanno affrontato questo tema, due realtà molto all'avanguardia quando si parla di data commons. Dopodiché abbiamo discusso con alcuni esperti del settore e alcune realtà sul territorio come portare queste best practices in Italia e adottare un approccio che possa effettivamente permettere la condivisione di dati digitali in un ambiente etico sicuro e che possa effettivamente contribuire al bene pubblico nel rispetto dei dati e della privacy dei cittadini.